No, c'è un'appiccata. Ah no, questo è un accoggi grave tra poco. Questo oggi è Monte Rotondo. Io? Questo è Monte Rotondo. No, questo è. Questo fatto. Ma dai, marea di castagne. Occhio a scivolare sulle castagne. Ti piglia dietro. E' il spettacolo unico. Oh, è proprio uno special. Vai. Vai. A tavola ora. E' il spettacolo su forza cinese. Si. 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 Ora c'è la spettata, eh. Prima... Era tanto tra lontano. Su questo castello. Ciao, ciao. Bello. andiamo Tappo si è stappato addio che scataposi e poi